Eccoci qui con il sindaco Francesco Rucco, signor sindaco naturalmente l'abbiamo vista qui vestito con questo camice della Proloquo Postumia per servire i commensali in una serata benefica, è proprio così? Sì, è una serata di beneficenza dove sia io con alcuni assessori e anche mia moglie faremo i camerieri per servire i tavoli ai fini benefici per aiutare l'ospedale San Bortolo di Vicenza. Qui c'è il baccalà, insomma il piatto tipico di Vicenza, diciamo che siamo in piena tradizione, baccalà e polenta, ho visto che c'è anche il baccalà mantecato, c'è la versione veneziana, ci sarebbero anche tante altre versioni lungo la nostra penisola, giusto Sindaco? Sì, il baccalà in realtà è un piatto di fatto nazionale, è un piatto anche però della tradizione vicentina, ricordo che peraltro il 17 c'è il gran galà del baccalà a Sandrigo dove c'è anche una confraternita importante, qui stasera ha una finalità benefica ed è quindi un richiamo alle tradizioni, quindi stasera baccalà e domani sera a Vicenza la Rua, altra tradizione che vogliamo portare avanti con successo e sarà anche lì una bella serata. Allora, poi vedremo se ci sono gli assessori, se tutti hanno seguito questo consiglio, ma io alla signora Ilaria vorrei chiedere il nostro sindaco fa il cameriere anche a casa con i parenti o no? Domandina insidiosa? Allora diciamo che mio marito è molto bravo fuori casa e quando vuole si impegna e quindi sa anche lui gestire bene la tavola diciamo, per cui è un bravo uomo di casa. Ai fornelli il nostro sindaco sarebbe in grado di fare un piatto di baccalà con la polenta che è particolarmente laborioso. Quello devo confessare che non sono molto brava nemmeno io per cui glielo perdoniamo, diciamo che i piatti della sopravvivenza li conosce, li conosce bene. E questo è positivo. Signor sindaco, insomma un invito per i prossimi giorni e un invito anche a promuovere la nostra città che si sta avviando verso un autunno carico di possibilità, anche cose interessanti a livello turistico. Sappiamo che ci sarà una grande mostra anche qui in Basilica, così tanto per darle un assist. Sì, in realtà stiamo lavorando su una programmazione anche autunnale, in prospettiva della grande mostra di dicembre su Oppi e molti ospiti illustri, quadri importanti di rilevo internazionale. In queste ore stiamo lavorando alla progettazione dell'allestimento e quindi diciamo che le cose procedono bene. È un grande impegno per la città, profuso soprattutto dall'assessorato alla cultura dell'amministrazione, al CISA, alla Fondazione Teatro Comunale. C'è la partecipazione, le proloco, le nostre proloco cittadine, ma qui c'è anche un gemellaggio, il gemellaggio con i francesi che sono qui e loro sono lontani dal mare, i nostri gemelli di Annecy. Sì, abbiamo voluto ospitare i gemelli di Annecy, sono qui per una quattro giorni ospiti per una mostra, quella sull'altruismo, ma anche e soprattutto per la rua e questa sera mi sembrava corretto fargli assaggiare il baccalà alla Vicentina in Piazza delle Erbe e quindi sono nostri ospiti, qui i miei graditi ospiti. Allora, un grazie da room21.it al signor Sindaco e alla signora Ilaria e buona serata, adesso vi filmeremo mentre servirete questi piatti prelibati. Grazie e buona serata a tutti. Cosa possiamo dire ai nostri vicentini, signora Ilaria? Assolutamente di partecipare a questi eventi molto piacevoli, peraltro divertenti, se non che culturali, perché anche la cucina è cultura, pertanto diffondere quella che è una delle nostre ricette principe porterà sicuramente bene la città e sarà estremamente interessante, quindi vi aspettiamo. Grazie.